Una due giorni ben organizzata dalla scuola calcio Mirabello. Il torneo di San Giorgio è diventato un appuntamento fisso per gli esordienti. Ieri il clou della decima edizione in campo le blasonate Napoli, Bari e Pescara contro le Molisane, San Pietro e Paolo, San Leucio e Mirabello. Inevitabilmente il podio è stato tutto ad appannaggio delle formazioni di Serie A e B. Il Napoli ha battuto in finale il Pescara 2-0 il definitivo con reti di Vincenzo Della Pietra, figlio d'arte Carmine Della Pietra, ex calciatore anche del campo basso in Serie B, era presente a Mirabello. Il raddoppio del Napoli è stato siglato da Claudio Picardi che al termine della manifestazione ha conquistato anche il premio come miglior giocatore del torneo, medaglia di bronzo per il Bari. A proposito del Napoli ai nostri microfoni uno dei dirigenti. Giovanni Ardone, dirigente del settore giovanile del Napoli Calcio, prendere parte ai diversi tornei è importante anche per realtà grandi come questa del Napoli che milita in Serie A e non siete voluti mancare anche a Mirabello. Noi ringraziamo la società del Mirabello anche a nome dei responsabili del dottor Barresi, del signor Grava responsabile tecnico che ci hanno dato anche la possibilità di venire qui e partecipare a questo torneo del 2002 perché i nostri sono 2002 come società professionista. Per quanto riguarda la vostra società, naturalmente numeri importanti, coprite tutti i settori, questo è sicuramente inevitabile. Sì, la primavera, l'attività di base ai 2004, anche qualche 2005 diciamo. Comunque è importante far crescere per l'appunto i piccoli calciatori dal proprio vivaio. Queste categorie qua sono importanti proprio come attività di base per far crescere i ragazzi, sperando che con l'insegnamento anche dei tecnici preposti li possano inculcare una giusta mentalità sia sportiva che culturale. E' sempre più educativa e scolastica anche perché per noi la prima cosa è lo studio, infatti se ci portano anche delle pagelle, se i ragazzi non vanno bene a scuola e non c'è un buon profitto, noi purtroppo anche a malingore li sospendiamo per un po' di tempo affinché possano riprendere bene gli studi. E' sempre più difficile per l'appunto far crescere dei calciatori perché ormai questo lavoro del calciatore è diventato ambito da molti, forse anche da troppi. E lo so, proprio perciò l'attività di base è proprio il fulcro perché da là noi inculchiamo quelle regole basilari che sono poi all'attività all'ordine del giorno.